Le feste vi annoiano a morte? Tu sei, esattamente. Il signore si tratterrà a cena. Cosa ci fai tu qui? Vi conoscete? Cominciate il nuovo anno col botto. L'amore è passione. Possessione. Qualcuno senza cui non vivi. Per il ciclo un biglietto per Hollywood. Chi sei tu? Anthony Hopkins. Brad Pitt. Vi presento Joe Black. Sabato 21-25. Rete 4. Grazie.